Comunque, non ho pronta la sigla, nonostante, ecco, ma pensa, non neanche pronta la sigla per dare il benvenuto a Beasi. Buongiorno, Bea. Buongiorno a tutti. Ecco, perché mi distraggono, ti chiedo scusa. Beasi, la generazione Z, la musica generazione Z, oggi cosa ci hai portato? Oggi vi ho portato un capolavoro della... Qua le parole si sprecano. L'English Trap con High Spice e Central Sea, Did It First. Chi non li conosce? Ah, English, non sono americani questi? No, English. Ah, quindi guidano dalla parte sbagliata. Sì. Ok, perfetto. Chissà se forse cantano anche dalla parte sbagliata, io ho il dubbio, ce l'ho, ma non voglio... I miei pregiudizi adesso li lascio fuori e ascolto in silenzio il minuto e cinquantasette di due persone per fare il minuto e cinquantasette di canzone, va bene? Ci sono i più produttori di Compagnia Bella, di High Spice e Central Sea con Did It First. High Spice e Central Sea. Allora, capolavoro. Ma come facciamo? Nel mentre è arrivato un WhatsApp di Adriana che dice Era un sacco che non sentivo questa canzone con gli occhietti, credo non parlasse di questa, ma parlasse di quella di prima di Gianluca Grignani. Così è, a naso, posso dire. Cara Adriana potrebbe essere che non sentivi da tanto Gianluca Grignani e non avessi mai sentito questa, quindi pensa che servizio facciamo, servizio pubblico. Allora, High Spice. Una ragazza, da quanto sentito. Sì, esatto. Una ragazza e l'altro, chiaramente, come si può dedurre dalla voce, è un altro rapper. Il tema di questa canzone è il tradimento. Il tradimento. Cioè, in questa canzone si parla del fatto che questa High Spice dice, sostanzialmente, asciugando, perché poi è tutto il rap stretto, slang, quindi non si capisce bene. Rap stretto, come fosse un sardo, capito? Eh sì, esatto, un po' come un dialetto, esatto. Dice, non importa se lui mi tradisce perché o io l'ho già fatto prima o se lui mi tradisce faccio di peggio, no? E questa è tutta una canzone dove viene un po' sponsorizzata questa cosa. La vendetta. Un po' della vendetta, un po' di anche una relazione tossica, no? Perché qua lei parla proprio di avere questa relazione con questa persona che l'ha tradita. Ok. E lei dice solamente, ah no, tranquillo, perché tanto io o ti faccio di peggio, ma comunque poi ti perdono perché ti amo troppo e stiamo bene insieme. E dov'è il messaggio positivo? No, non c'è, io l'ho portata apposta perché dico, cavoli, perché sponsorizziamo queste cose? Cioè, è vero che si può fare contenuto… C'è una critica quindi da parte tua? Sì, è bello, è orecchiabile secondo me, da ascoltare. La canticchia tutto il giorno, la canticchia. Secondo me guarda che ti rimane in testa. Però era più una critica perché dico, cavoli, è vero si fa contenuto su tutto, eccetera, eccetera, però è un messaggio abbastanza pesante, insomma, che si vuole dare. Tra l'altro, piccolo gossip… Cioè, quindi, questa sarà tipo la terza o quarta puntata di questa rubrica se già è avuta dalla mia parte, cioè, nel senso… Vabbè, ma ci sta, ma noi l'ascoltiamo, ma la genzetta soprattutto ascolta la musica perché è orecchiave, cioè non tutti si soffermano sul significato di una canzone. Infatti questa canzone è diventata… Non posso dirti, ti do una cosa neanche alla mia generazione. E allora… Cioè, fischiettevamo, cioè poi facevo i fighi… Dopo, beh, fa di Bennato, fece la famosa canzone «Sono solo canzonette», a un certo punto. Però a volte ti fermi lì, ti soffermi a sentire il testo e magari una canzone che hai ascoltato da tantissimo, dici… Ah, ma dice questo? Boh, non lo sapevo. Io capito solo due parole. Boobs. Big boobs, sì, solo quello, capito, in tutto il testo. Si chiama effetto cocktail party, credo. Quando senti quella parola che dici… Eh, cos'è che ha detto? Mi ha chiamato? Mi ha chiamato? Quella roba lì, cioè sì, deve essere quella roba lì. Un piccolo gossip che possiamo dare di vita vera, che a me piace sempre dare dei gossip sulle canzoni. Central C, che è il ragazzo che rappa, nella sua strofa parla di un tradimento che ha fatto lui, no? Ok. Plot twist, questo tradimento è vero. Cioè lui, nella canzone, ha confermato il tradimento che la sua, ovviamente ora, ex, aveva già annusato. Snasato. Ma io dico, ma sei normale? Ma in una canzone lo dici? Eh beh, però ha fatto contenuto. Infatti lui dice, eh, sono molto serettivo, la mia ragazza mi ha guardato il telefono per capire se mi scrivevo con una tipa, io le ho detto di no, lo scopriremo in 16 secondi, perché il suo verso dura 16 secondi. E quindi dice, dopo che ho detto queste cose, lei avrà la conferma che l'ho tradita. Poi io dico, ma bro, ma come stiamo? Eh, bro, come stiamo? Come stiamo? Ma cosa fai? Evidentemente la terza se ne voleva liberare. Ed è diventata una questione su TikTok, non ti dico. Non ti dico, non si parla di altro. Perché anche lei, no, vabbè. Trend topic. Però, però, io ho seguito tutta la vicenda. Ecco. Ed è emozionante. Emozionante, capito? Poi dopo ci dimentiamo che funzionano trasmissioni come quella lì, Ex on the Beach o quell'altra, come è che si chiama quella dell'isola, Temptation Island. Ma perché a volte è talmente ignorante la faccenda che ti piace ascoltarla perché ti senti acculturato. Perché dici, c'è così tanta cultura in giro che mi serve un po' di ignoranza. No. Secondo me sì. A me siamo un po' il contrario. C'è così tanta ignoranza per cui... No, magari non è tanto quello, ma il fatto che dici, se ascolto qualcuno che è più ignorante di me, mi sento più, automaticamente più acculturato io. Cioè, quindi tutti Nobel, siamo tutti Nobel a questo punto, confronta a sta gente. Sotto certi punti di vista, sì. Ok, vabbè, comunque. E però, effettivamente, spezzo una lancia in testa, ma a favore dei due, è orecchiabile quello sì, effettivamente sì. Quanti TikTok si sono fatti su questa canzone qua? Milioni, milioni. L'hai fatto anche tu? No. Ho scoperto che ha TikTok comunque. Sì. Mi sono accorto l'altro ieri. No, come un altro ieri. Sì, non me ne ho accorto. Non lo sapevi già? No, non lo sapevo, non lo sapevo. Ma mio metto mi piace questo TikTok. E infatti mi sono accorto perché c'era un tuo mi piace a un TikTok di un mondo in Milano. Ma questa è bella, lo so, vado a vedere. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, Gen Z, mondo a me è incomprensibile, ma che capisco essere praticamente incomprensibile come io, lo è incomprensibile ai miei genitori e come i miei genitori sono incomprensibili. Cioè io immagino sempre, immagino sempre mio papà che a vent'anni arriva a casa con il vinile dei Beatles e il suo papà gli guarda e dice, ma cosa a casa mi hanno portato qua? Che sono questi quattro cappelloni debosciati, non si capisce niente. Un cerchio, un cerchio. Dei pezzi più belli della musica mondiale. Sì, 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 lo dico. Qui l'ho detto e non lo nego. Grazie Bea! Grazie.